Flammiere è disponibile vicino alla tua posizione. Abbiamo armato l'obiettivo, bravo. Abbiamo distrutto l'obiettivo Alba. Abbiamo conquistato entrambi gli obiettivi. Attendi la fine dei colpi d'artiglieria nemici. Attendi la fine dei colpi d'artiglieri. Abbiamo armato l'obiettivo, bravo. Abbiamo armato l'obiettivo, bravo. Abbiamo armato l'obiettivo Alba. Abbiamo armato l'obiettivo, bravo. Abbiamo armato l'obiettivo. Abbiamo armato l'obiettivo. armato l'obiettivo. Abbiamo 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 armato l'obiettivo. Attacca i nuovi obiettivi. Attacca i nuovi obiettivi, 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 attacca i nuovi obiettivi. 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 Abbiamo conquistato entrambi gli obiettivi. Attacca i nuovi 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 obiettivi. Abbiamo armato l'obiettivo Alpha. Abbiamo armato l'obiettivo Alpha. Non ci sono l'attività, attenzione! Un'attività per loro! 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 Un'attività per loro!